Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andremo a vedere tutte le carte di un set Ho avuto un attimo di bug Tutte le carte di un set Che se fosse uscito qui sarebbe stato panico, paura e terrore Un set che credo tutti vorremmo Perché praticamente è un teen Delle divinità del faraone con meno carte Quindi con tanta roba forte E con tanta probabilità di trovare carte Prima di iniziare come sempre il video Scrive una seconda per iniziare come sempre Grazie mille ragazzi, grazie mille Andiamo a vedere questo Clarity Collection Carter Central Edition Fatto apposta per il 25esimo anniversario Da noi c'è Maze of Memories che ricarica in Story Archive Però credo che andrà a ricalcare anche un po' di carte Che verranno reprintate qui Qui ci sono 4 carte per bustina 80 carte in totale 15 pack per box Ma sappiamo che in OCC le carte costano un decimo Quindi se fosse arrivato da noi con questa meccanica Ma le carte sarebbero costate uguali Non ci sarebbe stato nessun panico Se fosse arrivato qui ci sarebbe Cambio magari ci sarebbero state 7 o 5 carte Sarebbe costato tipo il quadruplo E l'avrebbero messo in set da 4 buste Molto probabilmente E andiamo a vedere le carte Abbiamo Lava Golem L'Alpha Blossom Veiler Vision Hero Faris Max C Che forse probabilmente l'avrebbero cambiata Tour Guide Tour Guide Ho mixato Lancea La palletta di là Ash Fairy del Luna Inspector Border Ghostbell Blackwing Sea Moon Poison Wind Giacalope Abbiamo poi Shifter Nibiru Se entra Ma sono un classico Volo Ice Dragon Galaxy Ice Afterglue Dragon Queen Eldridge Che ha anche la sua controparte L'altra artwork E quella lì Della gold Della dizione gold Ecclesia Dogmatica Poi Albaz Immancavile Volete che manchi Albaz Alpha The Master Beast The Iris War Soul Ben 10 Darklow Intess Dragostepelia Madragon Egipte Ango Slime Con una riprinta Che molti vorrebbero Antico Dragon Fatato Alaraldo Junk Speeder Savage E Barone Che insomma Sti due sincroni Insomma Meritano Poi Redwer Poi Linghizu Numero 109 Dragon Red Ice Flare Metal Dragon Galaxy Ice Full Armor Dragon Ghostrick Angel Of Massive Downed Magician Andiamo di Link abbastanza Importanti Perché abbiamo Cherubini Altra carta Che comunque Molto molto Forte Unicorno Anche lui Ha la sua Artwork Alternativa Sempre Della gold Avramax Kotolker Inverter Lo Striker Dragon Selene Wind of the Master Magician Neko Tolker Heat Soul Artemis The Magician Moon Maiden Andiamo a vedere Carte Magia Cambiare idea Rinforzi Reason in Fossil Dig Spellbook of Judgment Preparazione Di Riti La Desire L'ho detto Nella maniera Più sbagliata Del mondo Mi faccio schifo Da solo Prova bene Extravagance Dark Ruler Land of the Storm Nadir Servant Triple Tattiche Droplet Chaos Space Prosperity Small World Magician Salvation A caso Mago Nero Poi abbiamo La Compulsory Abbiamo Dogmatica Punishment Impermanence Heavenly Matched Herpes Father Storm Dimensional Barrier Ice Barrier Summon Limit Concludiamo con Shadow Shism Ice Dragon Prison Trimble Revolta Queste qui Sono le carte Che possiamo trovare Ultra rare Perché comunque Quelle Le puoi trovare Anche Comune Mi pare Le puoi trovare Anche comuni Queste le trovi Ultra rare Vedete L'Hotwork Alternativa No Credo che siano Tutte Ultra rare Anche Collector Praticamente Puoi trovarle Tutte In tutte Le rarità Il che È una cosa Che ci piacerebbe Anche a noi Ma tanto A noi Sarebbero state Secret Tiè pure Extra Secret rare Mamma mia Un'altra Rarità Chan Queste sono Tipo quelle Lì Del set Dei nobili Cavalieri Poi le carte Ressentory Lair Mamma mia C'è Praticamente Di tutto Ed è Olografica Rare Ash Nibiru Qui c'è Veramente Ridotto Sarebbe Sono Un set Di Quelli Veramente 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 Clamorosi Ragazzi Va bene Detto questo Ragazzi Fatemi sapere Voi Cosa ne Pensate Se Soprattutto L'avreste Voluto Vedere Qui Noi Come Sempre Ci vediamo Nel prossimo Video E un Saluto A Tutti Soprattutto Soprattutto